Ciao milanisti, bentornati e benvenuti, questo è il canale di Pianeta Milan, io sono Stefano Bressi. Un'altra, un'altra, la solita, come al solito, il titolo della copertina è questo, come al solito, è tutto, tutto in linea con la solita stagione del Milan finora, della solita trasferta del Milan finora. Il Milan va in vantaggio, il Milan si fa rimontare, il Milan contro rimonta con gol di Luka Jovic. È ormai la classica trama del Milan in trasferta, ci siamo abituati. Per fortuna è arrivata una vittoria anche stavolta, come ultimamente sta succedendo. E questo, secondo me, è un po' il simbolo, ne avevamo già parlato dopo la partita con l'Udinese, è un po' il simbolo di come comunque, leggermente, ma la stagione del Milan si è cambiata rispetto all'inizio. Perché all'inizio finiva come a Salerno 2-2, finiva come a Lecce 2-2, finiva come a Napoli 2-2, finiva come a Bergamo perdendo. Adesso, da un po' di tempo, queste trasferte che seguono comunque la stessa linea, comunque lo stesso percorso, poi però finiscono con la vittoria del Milan. Pardon. Prima di continuare, lasciate un mi piace a questo video, mi raccomando, fatelo, è importante, e sono sicuro che non ve ne pentirete. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, è fondamentale che vi iscriviate, così com'è molto importante che attivate la campanella per ricevere tutti i video che andiamo a pubblicare. Commentate, commentate perché voglio sapere la vostra su questa partita, perché secondo me è una partita che farà molto discutere. Perché io ho già letto qualcosa sui social di critiche a Stefano Pioli, di critiche al gioco del Milan. Ragazzi, io credo che oggi il Milan non abbia fatto una bella partita, ma non abbia fatto neanche una brutta partita. È mancato il centrocampo, sicuramente, il centrocampo del Milan ha giocato molto molto male tutti e tre, sia Reinders che Adli che Loftus-Cic non mi sono piaciuti, forse tra i tre il migliore leggermente è stato Yassin, però per il resto, in generale, la prestazione non positiva dei nostri tre centrocampisti. E poi soprattutto la stavamo perdendo per due episodi, perché sono stati ancora una volta... È vero che il Milan continua a prendere troppi gol, quindi, ripeto, è tutto in linea con la classica partita del Milan in questa stagione, soprattutto in trasferta, perché prendiamo tanti gol, segniamo tanti gol, alla fine vinciamo. Però oggi c'è da dire che la stavamo perdendo per due episodi. Il primo è un calcio di rigore per un fallo di mano di Leao appena dentro l'area di rigore, appena dentro l'area di rigore e, tra l'altro, il braccio è molto largo. Per me il rigore c'è, però questa volta il movimento congruo non conta più. Abbiamo sentito per me parlare di movimento congruo, oggi, anche se il braccio è largo, oggi il braccio è largo, movimento congruo, ma è rigore. Ma vabbè, sorvoliamo su questa cosa. Per me era rigore, comunque, lo ripeto, e quindi episodio numero uno, episodio numero due. Ragazzi, cosa sta succedendo a Magnan? Io non lo so. Fatto sta che è il terzo errore abbastanza grave, se non il quarto, forse, della sua stagione. Quello di oggi, per me, è il più grave in assoluto, perché prendere un gol come quello di oggi, da Mazzitelli, è veramente inspiegabile e incredibile. È una palla, è un tiro, neanche troppo forte, neanche da troppo vicino, da posizione defilata, che gli passa sopra il piede perché Magnan quasi toglie la gamba. È assurdo. Quindi, poi è vero, non abbiamo fatto un gioco eccellente, però ragionate su quante occasioni o potenziali occasioni il Milan ha creato. Il Milan, molti si lamentano dei lanci lunghi. Ragazzi, i lanci lunghi funzionavano in questa partita. Perché il Milan l'ha preparata così, Pioli l'ha preparata così, l'ha preparata aspettando dietro, facendo giropalla in difesa e poi andando a scavalcare il Frosinone quando alzava la pressione sui nostri portatori di palla. E ha funzionato tante volte, perché tante volte abbiamo lanciato Leao, che ha avuto l'occasione in cui poi c'è stata la deviazione e Turati ha salvato sulla linea, ha messo due o tre palloni interessanti. In questo modo è nato il gol di Giroud con cui eravamo passati in vantaggio, poi parliamo anche di Olivier. Abbiamo avuto un'occasione, un'altra situazione sulla fascia opposta. Insomma, queste situazioni ci hanno portato a tante situazioni pericolose. Un'altra volta ha tirato Leao e è stato respinto. Il Milan ha creato nulla di incredibilmente pericoloso e nulla di chiaro. Però le occasioni di Milan le ha avute. Le ha avute e ha meritato di vincere. Perché il Frosinone, a parte il rigore e quella papera di Magnan, ha fatto un tiro da fuori area che Magnan ha dato sulla traversa e un tiro fuori. Quindi veramente poco e nulla. Una vittoria, secondo me, ripeto, meritata. Poi la prestazione è vera, non è stata scintillante. Per me tanti errori tecnici, perché tanti lanci lunghi sbagliati, tanti passaggi sbagliati, tanti errori di attenzione, di frasseggio impreciso. Quindi non aspetti tattici. Poi, non è stata la nostra migliore prestazione. Sicuramente, però, da qui a parlare di gioco terrificante e squadra messa male in campo, secondo me ce ne passa. Ripeto, per me è una vittoria meritata da parte del Milan. Arriviamo ai singoli. Perché di Magnan abbiamo parlato, ma ci sono i tre giocatori che oggi hanno fornito una prestazione. Al di là dei gol, hanno segnato i tre giocatori che è giusto elogiare. Il primo è Olivier Giroud, che anche oggi forse non ruba l'occhio, anche oggi forse non fa la prestazione da copertina, anche se poi fa gol e assist. Anche oggi, gol e assist. I numeri di Giroud in questa stagione sono strepitosi. Fa sempre la cosa giusta, fa sempre la cosa preziosa, è sempre determinante. Oggi fa un gol, il primo, da campione vero, perché comunque, al di là del bel pallone di Leao, dalla sinistra, finalmente un cross morbido di Leao che è andato bene, lui fa un movimento spettacolare e soprattutto schiaccia benissimo sul primo pallo. Lì molti avrebbero incrociato con un pallone lento, invece lui dà forza e la mette sul primo palo bassa. Ma poi anche l'assist a Gabbia e un'altra sponda molto precisa. Bene Olivier, bene Olivier. E io quando sento criticare Giroud, sinceramente mi metto le mani nei capelli, perché è vergognoso sentire certe critiche verso Olivier Giroud. Poi il secondo gol l'ha fatto Gabbia, proprio su sponda di Giroud. E la cosa bella del gol di Gabbia è che arriva a coronamento di una prestazione eccezionale. a coronamento di una grande prestazione. Gabbia era sempre al posto giusto, al momento giusto, con i tempi giusti. Ha fatto 3-4 anticipi eccezionali, degli interventi in scivolata, ha allontanato tanti pericoli. Perfetto. Gabbia sta veramente facendo delle prestazioni eccellenti ed è tornato molto più maturo, molto più pronto rispetto a come era prima. E il terzo è Jovic. Terzo gol di Jovic che ci ha messo un minuto e mezzo. Dicevo, ormai è la classica trasferta del Milan, entra Jovic e fa gol. Oggi ci ha messo un minuto e mezzo. È stato ancora una volta decisivo. Quinto gol in stagione di Luca Jovic. Perché poi anche lui è tanto criticato. Però poi ragazzi, andiamo a guardare i gol di Jovic, quanti sono stati pesanti. Quanti hanno deciso, hanno portato punti alla stagione del Milan. Quinto gol stagionale, ancora una volta un gol decisivo. Come dicevo, male il centrocampo. Reinders lento, Loftus-Cirk lento. Molto imprecisi tutti e due. Maluccio anche a De Lille, ma forse i migliori 3-3. Per il resto, la difesa ha avuto Calabria e Toernandez un po' in ombra. Non si sono spinti tanto in avanti. Forse più Calabria di Toernandez, perché il Frosinone attaccava con gli esterni molto alti. Hanno dovuto tenere a bada anche su quelle situazioni lì. Chi era alternato cose buone e cose un po' imprecise. Mentre davanti rimane da parlare della prestazione di Pulisic e Leao. Pulisic, anche lui, ha un po' alternato cose buone e cose meno buone. Non tra i migliori, non tra i peggiori. Leao oggi l'ho visto meglio. Sembra proprio demotivato, però comunque poi ha fatto due o tre sgasate importanti. Ha creato l'occasione in cui stava per segnare. Ha avuto un altro tiro. Ha messo in mezzo dei bei palloni. Ha fatto l'assist a Giroud. Quindi comunque una prestazione abbastanza, nel complesso, positiva per Rafa. Cosa dire su questa vittoria? La vittoria ci serviva. Ci serviva per tanti motivi. Ci serviva anche per assicurarci sempre di più il terzo posto. E ci serviva perché oggettivamente domani c'è Inter-Juventus. Comunque vada in Milan, vince lo Frosinone. Quindi significa che o recupera tre punti sulla Juve. O recupera tre punti sull'Inter. O recupera quattro punti nel complesso. Due sull'Inter e due sulla Juve. Quindi comunque vada, questa vittoria vale, in ottica raggiungimento di quelle che ci sono davanti, tre punti nostri più o tre o quattro punti. Quindi può valere sei o sette punti questa vittoria. Era importante. Era importante. La nostra classica trasferta. Tutto da copione. Abbiamo vinto. Questa è la cosa più importante. Lasciate un mi piace a questo video. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanella. Commentate per dimmi la vostra. Seguiteci su Pianatemi.it e su tutti i nostri profili. Un saluto a parte di Stefano Bressi. Come di consueto, ovviamente, al prossimo video.